buon pomeriggio siamo di nuovo al roma ai fidelity oggi è sabato 27 novembre e sono in compagnia di alessandro d'agostini alessandro che è presente in doppia veste qui all'interno del piano meno uno almeno uno esattamente con due sale allora c'è la tua sala principale diciamo esattamente piena di prodotti in funzione soprattutto due canali con gli amici di i fight esattamente esattamente dove siamo venuti a curiosare ieri sera sperando di trovarvi mentre ancora stavate per per anni invece era praticamente già tutto pronto era tutto perfetto però abbiamo scoperto un sacco di prodotti interessanti sì 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 beh sai io vengo da preparazioni del top audio quindi sono sono un giovane vecchio quindi le fiere ne ho fatte tante ormai allestiamo allestiamo veloci allestiamo veloci e poi ha invece una collaborazione con con marcello di marcello perdonate mio lo chiamo marcello ma audio quality appunto come detto giustamente tutti bologna che come conosce sicuramente come conosceranno tanti vostri followers molto incentrato sul sul multi canale sulle sale cinema videoproiezione tutto ciò che ne che ne consegue e come ti dicevo anche ieri durante il backstage appunto abbiamo voluto fare questa collaborazione che è un po il discorso del perché il nuovo showroom si chiama d'agostini lab lab proprio ricordiamo tu hai il negozio storico che che esiste ancora esattamente ai file d'agostini da soli 55 anni però c'è questa nuova realtà pazzesca di cui abbiamo già parlato su av magazine che appunto è agostini lab esattamente è una showroom esatto piena di ambienti pazzeschi e dove già teatro di eventi anche e soprattutto in collaborazione con marcello sì sì con marcello ecco qualcosa abbiamo fatto anche noi assieme ma alla fine noi il 20 21 gennaio compiamo un anno tra l'altro in un anno abbastanza complesso quindi diciamo che è un anno che ne è valso 10 però faremo un anno e quindi stiamo stiamo iniziando a procedere faremo tanti 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 tantissimi eventi lo abbiamo voluto fare proprio per questo motivo per dare la possibilità di avere ancora più a disposizione più prodotti più sale più modo di provare di provare bene in ambienti controllati e prodotti che soprattutto noi diciamo abbiamo vogliamo essere un pochettino presuntosi ogni tanto e abbiamo scelto selezionato trattiamo tanti brand ma sicuramente alla si trovano prodotti nel quale noi crediamo molto da proporre appunto sicuramente la nostra clientela che spaziano ecco dalla dal due canali al multicanale a tante cosette che poi tu hai visto e probabilmente sì dall'i-end esattamente all'audio democratico diciamo che c'è anche l'autogramma che ho visto c'è sono prodotti per esempio un viso c'è q acustics per dirne uno certo sono prodotti kef fucal elevatissimo e però c'è anche l'i-end non solo nell'audio ma anche nel video sì sì per esempio avete fatto un evento con marcello con il gtzz 80 il proiettore delle meraviglie bello da 80 mila euro per carità è una cifra risibile rispetto a molti prodotti high end però ripeto lo spazio è molto piaciuto ci hanno fatto ripeto eventi con audio gamma un marcello sono soprattutto sulla sala quella più grande quella che noi chiamiamo auditorium insomma è una sala comunque abbastanza grande sono un pochettino più di sono 50 metri quadri abbondanti al suo interno anche ovviamente tutti i servizi tra cui anche una cucina completamente funzionante anzi il prossimo weekend faremo lavorerà di sera il venerdì e il sabato sera con la proiezione di un film in privato per per coloro che l'hanno registrato che sono dei giovani videomaker che hanno fatto questo cortometraggio che poi andrà anche su varie piattaforme e faranno la prima da da noi questo è un canale che stiamo calcando che ci piace tanto legati al cinema ecco abbiamo spoiler un pochettino vita da carlo con carlo verdone l'impianto nel suo studio di posa in realtà quello è uno studio di posa non è casa sua e lo abbiamo fornito noi non so se ci avete fatto caso se l'hai visto carino non l'ho ancora visto però si vede si vede così di di passaggio però insomma carino ho visto anche in alcuni passaggi in televisione visto visto delle impianto serio con dei diffusori da pavimento dei diffusori da pavimento un bel giratischi perché carlo è appassionatissimo di di vinile tra l'altro mi sono fatto fotografare il l'ultimo cofanetto luce all'ultimo la ristampa dell'ultimo cofanetto di jimmy hendrix che lui è super appassionato di appunto di jimmy hendrix niente molto contento perché ci piace cercare di allargare un pochettino la cerchia e di promuovere un pochettino il nostro settore sono tutte idee secondo me sfiziose carine più che altro per stare insieme visto che ce l'hanno negato per un po di tempo con tutti i dovuti precauzioni controlli eccetera cerchiamo di tornare a stare un po assieme benissimo alessandro ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e continuiamo adesso per la seconda metà della prima giornata e poi fino a domani sera bene bene grazie a tutti di nuovo ciao alessandro grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti